Passiamo a Notebook LM, visto che l'avete citato anche prima, io ci ho giocato un attimino e oggettivamente è una di quelle applicazioni che dici wow, peraltro dai signori di Google, sono partiti dicendo ma abbiamo questa soluzione dove tu puoi in pratica scribacchiare le tue note, ti metti degli appunti, un po' come Keep per gli amanti delle app di Google, ti segna le tue note e c'è una parte di AI che ti aiuta a fare una ricerca e a migliorarle, però vi do un esempio pratico visto che ci ho giocato un attimino, qui gli puoi caricare un documento, quindi la nuova funzionalità che hanno aggiunto è questa, tu gli carichi un documento, ho caricato il documento di MrBeast su come aver successo su YouTube, che è interessante, e lui ti fa questo mestiere che è carino, non so se si vede qua, in pratica tu carichi il documento, dopodiché lui già ti fa un riassuntino qua, riepilogo in italiano, ti fa riepilogo, puoi parlare con questo documento, quindi io gli posso scrivere delle robe e gli posso dire ok ma che cosa ne pensa dei short video e via così, ti dà anche delle domande suggerite e in più ho aggiunto questa possibilità di avere in sostanza un podcast, per ora è solo in inglese però ovviamente arriverà anche in italiano, dove c'era un bottoncino qua, l'ho fatto perché ci mette qualche minuto a generarlo, e parte questo, lo sentite l'audio, e via, e questo va così, in pratica sono due voci che dici ma questi qua sono due tizi che lavorano in radio, che hanno una conversazione sul documento, e da qua immaginiamo se io ho un libro, a quel punto io scrivo il mio libro, e poi dal libro io posso tirare fuori il riassunto del libro, le domande e risposte principali, l'audio libro commentato del libro, poi una volta che l'hai fatto così io posso dire allora mettimi la mia voce di qua, e poi quella voce ci metto sul mio avatar, e quindi inizio a essere io, la valutazione oggi di 4book secondo me è almeno 5x dopo questo, gli audiolibri diventano super appetibili, ma soprattutto lo puoi vedere anche come uno strumento di insegnamento, perché comunque una cosa è leggersi il documento, ad esempio quella che abbiamo visto l'altra volta di Draghi, proprio una pagina dietro l'altra per 65 pagine, è una cosa farlo diciamo uploadarlo qua, e sentire una sorta di podcast a due voci, in cui c'è una conversazione su quel documento, che ti fa capire le cose chiave, e questo è veramente impressionante, anche perché non è stato annunciato come se fosse un'innovazione incredibile, invece quando lo vedi dici no qua c'è qualcosa di nuovo veramente. Posso dirvi la mia su questo, noi avevamo provato in Music's Match a fare l'opposto, partendo da un presupposto, avevamo notato che, però non è che fosse una visione, nei podcast, nel contenuto audio non musicale, c'è una quantità e mezza di knowledge, di sapere, ok? Prendi tutti i video di YouTube, cioè voglio dire, d'altronde tutti i vari LLM sono partiti trainando, scaricando giga terabyte di video YouTube, hanno fatto transcription e poi sono partiti lì. Podcast idem, se sommiamo tutti i podcast nel pianeta, che è un contenuto solo audio, che non esiste in testo, c'è un casino di knowledge. Allora noi in Music's Match abbiamo fatto Music's Match Podcast, che tra l'altro è molto carino, dove una di queste puntate è anche lì, dove trascrivevamo quel contenuto e facevamo LLM su quello, e poi lo taggavamo con Wikipedia, eccetera. Veniva fuori un contenuto che non esisteva in formato testuale, perché c'era solo in formato audio e diventava più rilevante, time sync, separato, taggato, e la cosa figa era, e poi mi collego a Notebook LLM, perché esisteva già da un po', che tu potevi andare ad ascoltare solo quello che aveva detto Paolo Barberis a proposito di OpenAI, quindi anche il search diventava più rilevante. Qui è partito il contrario, ma il presupposto loro è che c'è... Un'altra delle domande che mi è stata fatta e che faccio a voi è, secondo voi, quale è, visto che non siamo, c'è scarcity di contenuto da trainare, qual è quel posto dove ci sono più contenuti per trainare e che potrebbe aiutare l'AI a scalare? Cioè, qual è quel contenuto? Domanda, tipo Monti, libri che hai dietro, non lo so, dove è secondo te? Per me è video, c'è talmente tanto video. Mi stanno già facendo, Paolo? Audio, intendi? No, in generale, cioè, tu fossi un nuovo LLM, dove cercheresti di prendere roba, perché poi stanno pescando tutti dallo stesso video, audio, eccetera. Forse creerei dei dati sintetici, come si sta facendo. Ma però mi è stata fatta notare questa cosa, i nostri computer, cioè, il nostro PC, ma di file, tra file Excel, tra file Word, tra le tue note, quanta ricchezza c'è e quanta knowledge c'è in ogni PC, in ogni roba. Credo che il tentativo di Google in questo, se entriamo nelle note, se entriamo nei documenti, non sia altro che cercare di trainare il più possibile, perché qui capisci che se tutti cominciamo e ci piace, e torniamo all'adoption, e gli passiamo tutti i documenti di Google Docs nostri, tutte le nostre note, e quello lì è un training su cui non ancora abbiamo visto l'effetto Google rispetto a OpenAI. Peraltro, in questa settimana, una delle notizie che è uscita è che Meta utilizza, e ha utilizzato per allenare le proprie AI, tutti i dati pubblici, di adulti hanno anche aggiunto, presenti su Facebook, Instagram. Quindi se usiamo Facebook, Instagram, ricordiamoci. All'inizio Zac aveva detto, ma no, in realtà, invece sì. Che però, voglio dire, sono anche, come dire, ha costruito questo enorme contenitore, tutti postiamo la qualunque pubblicamente, e quindi dal loro lato dicono, li usiamo, arrivederci, grazie, insomma. Quindi c'è anche questo aspetto. Però, devo dire, insomma, Notebook LM colpisce. Colpisce molto, sì. Anche perché la voce continuano a dirmi, no, però, cioè, in realtà, uno spinker radiofonico. Eh, ho capito. Però, insomma, non lo so, cioè, questo ho schiacciato un bottone, e quindi, sai, devi considerare che l'evoluzione è veloce. Poi, tutti i commenti in questo momento li farei, sapendo che sono tutti prodotti, direi, in beta, no? Sì. E quindi, a volte, diciamo, eh, ma magari ha delle allucinazioni, non funziona tanto bene, ma proviamo a immaginare di qui a tre anni, come qualsiasi prodotto, no, che esce ora. Giusto. A me, perfezionare. Oggi l'AI è al suo peggior livello storico. Quindi, peggio di così non sarà mai, per cui... Anche se c'era questo grafico carino, che faceva vedere tutti gli LLM, il nuovo modello O1 di GPT, che è fighissimo, perché se l'avete usato, l'hanno picciato come una latency più alta, e mi è piaciuta una definizione che ho letto, latency is the new thinking. Cioè, adesso ti dice I'm thinking, e lei sembra... È abbastanza impressionante. Impressionante. Ti spiega in ogni fase cosa sta facendo, e ovviamente dalla percezione di un ragionamento sottostante. Un grafico, ce l'ho davanti, che diceva IQ test results, cioè paragonato tutti gli LLM, questo qui ha superato tutti nel giro di... Esattamente questo. Nel giro di poco tempo. Guarda, appena rilasciato, è praticamente, diciamo, l'umanoide più intelligente di tutti gli altri. E come ha detto Paolo, siamo all'inizio. No, e poi la media... Lì c'è l'IQ, no? Se non sbaglio, è intorno ai 100, giusto? Sì, mi sembra di sì. E quindi la gaussiana credo che rappresenti l'uomo, quindi si sta posizionando nella media. Il mio allenatore... Einstein c'aveva 169 di... Il nostro, scusa, IQ è fuori, è dalla parte destra, in fondo di là, giusto? Perché noi non siamo... È sotto, è grafico. Il mio allenatore di scacchi, l'immenso Pialogio Episcopo, mi ha sempre detto, guarda, devi prenderti tempo per pensare, non puoi muovere velocemente, devi metterti lì a pensare, e chi pensa meglio, a quel punto il futuro gli appartiene, scacchisticamente parlando. Perché tu ti metti lì, pensi, vedi tutte le mosse, bla 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 bla, e prevedi già il futuro, sai già cosa succederà. E a me piace il fatto che si metta lì a pensare di più, e il fatto di fare questo chunking dove spacchetta il ragionamento in tanti passaggi, mi aiuta anche a pensare meglio, a capire qual è il modo giusto anche di ragionare su un problema. C'è anche questo aspetto educativo che una volta non... Magari dice, no, ecco, arriva, ci spazza via. No, non è che... Ci spazza via prima o poi comunque, però a prescindere da quello, mi aiuta a ragionare meglio rispetto a un problema. Perché vedo come affronta un problema un tizio più, chiamiamolo intelligente di me, o comunque più capace di me a fare delle cose. Poi uno dice, ma io in matematica sono più bravo. Beh, devi essere sempre più un fenomeno, essere più bravo di questi sistemi, inevitabilmente. Per cui questo è un aspetto, secondo me, anche interessante. ringrazio più importante. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, beateno!